Allora Gilda Re che ci prepari oggi? Ciao amori, oggi una bella pizza salata. Cominciamo! 3 uova, un cucchiaino di zucchero, un cucchiaino di sale, 100 grammi di parmigiano, 150 ml di latte, 120 grammi di olio di semi. Queste sono 200 grammi di zucchine, adesso ne metto un po'. 300 grammi di farina, poco per volta. La farina l'abbiamo messa tutta, vero Gilda Re? Sì, sì, tutta quanta, ecco qua. Adesso metto una bustina di pizzaiolo, eccolo qua, vedete? Che è il lievito istantaneo. Metto 100 grammi di salame, però un po' me lo tengo, eh? Allora, 100 grammi di formaggio tagliato a tocchetti, un po' me lo lascio sempre. Lo stampo è 22, ci ho messo un po' d'olio e un po' di pangrattato. Ecco qua, vogliamo l'impasto, eh? Vai, Gildarella! Adesso ultimi ritocchi, eh? Una spennellata d'uovo. Adesso a forno caldo a 180, la metto dentro, abbasso a 160 per 30 minuti. Va bene, vai Gildarella! Il ciambellone di zucchine è pronto. Che spettacolo! Dai, Gildarella, facci vedere un po' com'è venuto qua. Morbido, morbido, guardate che bello! C'è un profumo, raga! Eccolo qua, guardate un po'. Mamma mia, che voti che ha fatti, eh? Eccolo qua, tutto colorato. Caldo, caldo. Morbido, morbido. Una meraviglia. Guardate un po'. Che spettacolo! Eccolo qua. Brava Gildarella! Ecco qua. Hai colpito nel segno anche oggi. Mi raccomando, fatelo perché è buonissimo! Un bacio a tutti. Un bacione a tutti. Dalla cucina di Gilda. E? Piatto ricco. Mi ci ficco!